Buonasera, benvenuti alla diretta Bridges of Light della pratica dell'EFT, Emotional Freedom Technique, tecnica di libertà emotiva. Attendiamo i collegamenti. Buonasera. Buonasera, attendiamo qualche interessato al tema della serata che è la paura del successo, la paura di realizzarsi, che sembra assurdo ma in realtà ce l'abbiamo, possiamo avere questa paura. Ben trovati, speriamo che la connessione sia buona, attendo qualche commento per vedere se possiamo interagire. Ben trovati alla pratica della tecnica Emotional Freedom Technique, tecnica di libertà emotiva, per sciogliere traumi, per sciogliere paure, fobie, qualsiasi cosa che ci desta preoccupazione, qualsiasi cosa che va a rompere un equilibrio. Lorenza, buonasera. Lorenza Giulia, grazie del tuo commento. Ok, quindi i commenti funzionano. Allora, intanto che se decidete di seguire un po' questa diretta, intanto vi chiedo di scrivere, buonasera Rosanna, quali temi vi piacerebbe che io tratti a partire dalla prossima puntata, su quale aspetto volete focalizzare l'attenzione. Questa sera partiamo dalla paura del successo, dalla paura di realizzarci, perché realizzarsi, buonasera Mary, potrebbe voler dire cambiare luogo geografico dove vivere, potrebbe voler dire chiudere con delle relazioni, potrebbe voler dire concentrarsi su se stessi, ok? Quindi cambiare ottica della vita di se stessi. Quindi potrebbe portarci a sposare nuovi punti di vista. Perché avere successo, comunque sentirci realizzati, ad esempio, ho visto che nel percorso di crescita di molte persone voleva dire, ad esempio, sentirsi superiori, ok? Oppure trattare l'altro da inferiore. C'era questa associazione che chi ha successo, magari, è una persona che può essere spavalda, oppure che può essere egocentrica, egocentrica, oppure una persona che può far sentire inferiore chi non ce l'ha fatta. Spesso ho trovato questo tipo di associazione, e questo può essere uno dei blocchi alla mia realizzazione, della mia attività, di qualsiasi cosa io voglia decidere di realizzare nella mia vita, ok? Possiamo trovare altre associazioni. Ad esempio, se ho avuto un genitore fallimentare, o comunque ha avuto difficoltà nel realizzare se stesso, io posso scegliere lo stesso destino. Scusate. Lo stesso destino, perché per solidarietà provo vicinanza, ok? E quindi non mi permetto di fiorire, di sbocciare, di individuare la mia strada, perché per solidarietà sto vicino a mia madre, a mio padre, che non ce l'hanno fatta, gli faccio compagnia. Spesso ho trovato anche questo tipo di condizionamento che blocca un percorso di crescita e di evoluzione. Allora, misurate da 0 a 10, quanto avete paura del successo? Chiaramente successo intendo il riuscire in qualcosa, in un talento, nel promuovere un mio talento, nel realizzarmi anche con un hobby, con un interesse, cioè di far crescere qualcosa nella mia vita che mi piace, che mi appassiona, ok? Quindi non solo magari la mia attività lavorativa, ma potrebbe essere anche una cosa altra, diversa, ok? Quindi misurate questa paura da 0 a 10, quanto è forte in questo momento. Immagina, se adesso fai fatica, prova ad immaginare come potrebbe essere per te avere successo nel tuo lavoro, cioè crescere, procedere, magari avere dei riconoscimenti e quindi passare di livello, ok? Come per te, un attimo, vai a pescare questa immagine, come per te avere successo, sentirti realizzata in un'attività. Vesti un attimo questi panni, perché da lì ti arrivano gli eventuali blocchi, ok? O le eventuali paure. Maria, buonasera. Quindi individua intanto le tue paure. Adesso iniziamo a fare un giro su questa paura, la paura di realizzarmi, la paura del successo, perché ci porta fuori dalla nostra zona di comfort, ok? Non è più come prima. Anche se ho paura di realizzarmi, in fondo, e ho paura di uscire dalla mia zona di comfort, ho paura del successo che potrei avere, ho paura dei riconoscimenti, ho paura che questo mi porti, ad esempio, a sentirmi arrogante, superbo, domanda. Ma nonostante ciò mi amo e amo quello che faccio. Anche se ho paura del successo, ho paura di realizzarmi, ho paura che questo significhi chiudere delle relazioni o comunque creare un distacco sano con delle relazioni. Ma nonostante ciò mi apro ad una comprensione più profonda di me stessa. Anche se ho paura del successo, ho paura di realizzarmi, ho paura di fare un pezzettino in più, ho paura di evolvere, di crescere in una situazione nel mio lavoro. Ciao, Matilde, grazie di questo cuore. Ma nonostante questo, ciao Paola, buonasera, ma nonostante questo, scelgo di perdonarmi per il fatto di non darmi la possibilità di vedere orizzonti infiniti. Ho paura di realizzarmi, ho paura del successo, di riuscire in qualcosa. Individua dove tu hai paura di riuscire e di realizzarti, chiaramente. Ho paura del successo, ho paura di realizzarmi in tu aggiungi il tuo ambito, chiaramente. Ho paura di primeggiare, ho paura di emergere, ho paura di sfondare, ho paura di riuscire nella mia attività di realizzare un mio sogno. Ho paura di realizzare un mio sogno, ho paura di realizzare un mio talento, di far spiccare una parte di me. Ho paura di emergere, ho paura di uscire dalla mia zona di comfort. preferisco accontentarmi, preferisco rimanere lì dove sono. Mi accontento. Rimango lì, non do fastidio a nessuno. Mi accontento. Non chiedo di più. Ciao, Lella. Mi accontento. Ho paura di chiedere di più a me stessa. Ho paura di fare un salto in più. O di aggiungere, o rafforzare una competenza. Ho paura di perdere già quello che ho. Ho paura di perdere già quello che ho. Non mi fido a fare un pezzo in più. Ciao, Alice. Ben trovata. Ho paura di avere maggiore successo. O di realizzare quel sogno. Qual è il sogno che ti preme di più di realizzare? Pensalo. Qual è l'aspetto di te che vorresti potenziare? Ho paura di avere successo. Ho paura di sfondare veramente. Sì, sì, Alice. Alice chiede se si può fare anche dopo mangiato l'EFT. Si può fare quando vuoi. Però, vabbè, se stai digerendo magari può essere un po' più... Come dire, richiedere un pochino più di energia. Però forse anzi ti aiuta a digerire meglio. Dipende dall'argomento che scegli, dall'emotività che ti tocca, ma vai tranquilla. Concetta, ben trovata, è la prima volta. Grazie che sei qui. Allora, stiamo picchiettando dei punti meridiani, ok? Medicina tradizionale cinesi, dove scorrono i meridiani. Questi punti vanno a stimolare tutto il sistema energetico, mentre parliamo di qualcosa che ci turba, perché questa tecnica va a liberare, non va ad aggiungere, va a liberare una paura, una preoccupazione, il rapporto con il cibo, qualsiasi cosa, una convinzione, un anatema, memorie carmiche, qualsiasi cosa ci puoi trattare con l'EFT, ok? Adesso noi stiamo trattando la paura del successo, la paura di realizzarmi in qualche campo della mia vita, la paura di emergere, ok? L'angolo dell'unghia. Tu fai su di te concetta e ripeti dopo di me a voce alta quello che dico e tu aggiungi anche quello che ti viene da dire, perché questa tecnica è come se ci permettessi di aprire dei vasi che a volte teniamo nascosti, quindi va a ripulire, ecco perché si chiama libertà emotiva, perché va a liberare quello che ci impedisce di essere veramente noi stessi e di fluire con la vita. Angolo dell'unghia. Angolo dell'unghia verso di te. La paura del successo. Salto l'anulare perché lo facciamo dopo, dietro sul palmo della mano, nel punto 9 gamma. Qui facciamo il meridiano dell'anulare. paura del successo, paura di riuscire. Poi chiudiamo gli occhi. Abbiamo finito due giri. Apro il respiro diaframmatico, cioè gonfio la pancia, tengo un attimo gli occhi chiusi per ascoltare le sensazioni fisiche e l'energia che circola nel mio corpo, perché questa tecnica lavora a stretto contatto con il nostro corpo fisico, ok? Quindi vai a sentire se c'è formicolio, vibrazioni, come si muove l'energia e chiedo ad ognuna di voi qual è la parola che ha risuonato, che emozione è salita in questo momento dopo questo giro che abbiamo fatto, che cosa mi fa pensare questa paura del successo? Dov'è che trovate un blocco ora nella vostra vita nel realizzare un sogno, nel realizzare un progetto? Dov'è che trovate questo blocco? Attendo dei feedback, attendo dei commenti, così possiamo interagire e possiamo anche mirare di più la scelta dell'argomento, perché l'EFT funziona maggiormente quando riusciamo a determinare il problema in maniera chiara. E così anche, concetta aggiungo o chi è nuovo, possiamo trattare anche i sintomi fisici, ok? Se c'è un disturbo fisico, io picchietto, posso picchiettare anche quattro ore di fila finché non mi passa quel sintomo. È chiaro che non va a sostituire cure mediche, assolutamente, questa è una tecnica integrativa che possiamo fare in più. A volte può bastare questa, a volte no, dipende chiaramente dal caso. Come state? Fatemi sapere come è andato questo giro sulla paura del successo, cosa vi è risuonato? attendo commenti, cosa vi è risuonato in quello che abbiamo detto adesso sulla paura del successo, nei giri che abbiamo fatto di EFT. Fatemi sapere, e è importante bere acqua mentre facciamo gli EFT. Fatemi sapere come sta andando, altrimenti riparto con un giro. E fatemi sapere anche un argomento che vi piacerebbe, che io trattassi da lunedì prossimo. quindi scrivete in libertà. Allora, ancora non vedo commenti sui giri che abbiamo fatto, ne ripeto un altro, va bene? Non vedo questo. Facciamo così. Monica, buonasera. Quindi stiamo trattando la paura del successo. Rifaccio un altro giro. Silvia, ciao cara. Grazie, la tua preziosa presenza. Un altro giro del successo, della paura del successo. Ho paura di realizzarmi. Ho paura di chiedere troppo a me stessa. Mi fa sentire a realizzarmi, avere successo e magari aumentare anche le finanze, perché potrebbe voler dire anche questo, nel vostro caso. Come se mi facesse sentire sfacciata. Come se chiedo troppo all'universo. come se... Ho paura che per gli altri non ci sia. Come se fossi egoista. Paura di realizzarmi. Paura di realizzarmi. Di passare avanti a qualcuno. Magari c'è questa associazione. Anna, buonasera. Paura di essere troppo, di primeggiare, di essere vista come una rivista, come una che vuole, non so, che vuole mostrarsi, ostentare un talento, magari. ho paura del successo. Paura di espandere il mio talento. Paura di espandere la mia luce. Noi siamo luce, pensiamo a questa luce, ma puoi confinare la luce? La puoi, sì, la puoi chiudere in una scatola, ma non è stata creata per questo. Grazie a te, Anna. Quindi, i nostri talenti, i nostri doni, che sono i veicoli attraverso i quali la luce si esprime, cioè, sono responsabili di questo, di questa espansione. Ho paura di espandere la mia luce. Ho paura di realizzarmi in quel campo. Ho paura di evolvere maggiormente in quel campo. Ho paura di realizzare il mio sogno. Qual è il tuo sogno? Ho paura di realizzare il mio progetto. Paura di realizzare i miei progetti. Questo mi fa pensare ad essere presuntosa, di essere presuntosa, ad esempio. Qualcuno potrebbe avere questa associazione. Paura di realizzarmi. Paura di realizzare il mio sogno, il mio progetto. Paura di spostarmi dallo stato scuo. Paura di fallire. È chiaro che può far scattare anche la paura di fallire se poi non ci riesco. Paura di sbagliarmi. Se poi non riesco ad imboccare la giusta via. Paura di sbagliarmi. Paura di perderci, di fare un investimento un investimento errato. Paura di non sapere investire per realizzare questo mio progetto. Questa paura di realizzarmi. Questa paura di espandermi. Questa paura di sbagliare. Paura di non indovinare. Paura di non indovinare il progetto. Oppure non trovare la modalità. Oppure ho bisogno ad esempio di soci, di collaboratori. Ho paura di non fidarmi. Paura di realizzarmi. Di realizzare il mio progetto. Faccio fatica a buttarmi. Non ci provo neanche. L'ho chiuso nel cassetto. Oppure aspetti che ci sia una causa esterna a te a stimolarti? No. Dipende tutto da te. Dipende tutto da me. Mi apro la possibilità di assumermi la responsabilità di tutto questo al 100%. Chiudo gli occhi. Aria nella pancia. goffio la pancia. Lascio andare. Ascolta l'energia che circola ora nel tuo corpo fisico. Senti come si muove l'energia. Gambe, braccia. Processa tutto il tuo corpo fisico. Senti come scorre l'energia ora. E quale parola ha risuonato? Ora attendo un tuo commento. Attendo un feedback. Ciao Antonella. Ben trovata. fatemi sapere com'è andata questo giro. Quali sono le parole che vi risuonano di quello che abbiamo detto. cosa sentite a livello di sensazione fisica? Quindi sensazione fisica emozione pensiero. Lavoriamo su questi tre livelli macro livelli principali. Ok? Poi quello spirituale fa automaticamente. Ma focalizziamo l'attenzione sulla sensazione fisica perché il nostro corpo uccida è un altro strumento che la mente stessa utilizza per comunicarci dei messaggi. Paura di sbagliarvi dice Lorenza grazie del tuo commento. Ok. Mi suona questa paura che adesso ci andiamo a picchiettare. Intanto vi chiedo l'argomento che volete trattare il prossimo lunedì. Anche Rosanna ha paura di sbagliare? Ok. Ci siamo. Attendo altri feedback. e sentite ripeto corpo fisico l'emozione che è connessa ad un pensiero o convinzione. Sempre costantemente siamo un tutt'uno. Ok. Andiamo allora con questa paura di sbagliare. Catiuccia buonasera. Paura di non essere abbastanza. Ok. Di non essere abbastanza per realizzare il mio sogno. Adesso partiamo con la paura di sbagliare. Mary mi ha risuonato paura di fallire di sbagliare. sento un po' di rabbia e amarezza. Ok. Vai Mary adesso ci focalizziamo sulla paura di sbagliare. Misuratela da 0 a 10. Quanto è forte per te? Alice dice io ho due sogni nel cassetto. Uno è quello della fotomodella ma per paura del giudizio degli altri ho sempre paura di portare avanti questo progetto. Ok. Rosanna ha le mani che pulsano. Bello questo progetto Alice. Ok. Allora facciamo sulla paura di sbagliare adesso. Tu Alice intanto focalizzati magari sulla paura di essere giudicata. Ok. Comunque poi ci miriamo l'attenzione. Anche se ho paura di sbagliare ho paura di fallire ho paura di sbagliare di non essere in grado di di non riuscire Carolina esatto ok ciao Katia ok Alice anche se ho paura di sbagliare scelgo di perdonarmi anche se ho paura di sbagliare nel realizzare il mio progetto ho paura di 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 non riuscire di non essere all'altezza di non fare scelte giuste ok ma nonostante ciò mi apro la possibilità di contattare il mio sé superiore e di essere guidata dal mio sé superiore anche se ho paura di sbagliare nella realizzazione del mio progetto fondi con le mani ok ho paura di sbagliare di non riuscire di non essere all'altezza nonostante questo chiedo al mio sistema energetico di avviare il processo di autoguarigione da questa convinzione ho paura ho paura di sbagliare ho paura di non riuscire ho paura di non farcela ho paura di non riuscire ho paura di fallire in questo progetto Gisella buonasera ho paura di fallire in questo progetto ho paura di sbagliare e quindi mi blocco mi sento bloccata questa paura mi blocca questa paura di sbagliare mi frena ho paura di sbagliare ho paura di sbagliare ma è anche vero che se non ci provo non lo so è anche vero che questa paura di sbagliare non mi porta a nulla grazie Maria Paola poi ti leggo ho paura di sbagliare ma mi apro la possibilità di trasformare questa paura posso andare a vedere a mettere per iscritto ad esempio gli aspetti da migliorare a mettere per iscritto i passi concreti che posso fare questa paura di sbagliare questa paura di sbagliare mi apro alla possibilità di sostituire questa paura di sbagliare con un piano concreto oggettivo da mettere nero su bianco e di guardare in modo più approfondito questa paura ok chiudo gli occhi aria nella pancia respiro diaframmatico senti com'è per te ora l'energia che circola senti questa paura se è aumentata se è diminuita e se ci sono delle parole qualcosa o anche immagini possono emergere allora Katiuscia devono essere abbastanza poi Mary l'abbiamo fatto rabbia e amarezza sì allora ok Alice si tratta di lasciare andare i giudizi che tu hai su te stessa perché siamo sempre lì allora Maria Paola dice paura di fidarmi paura di perdermi paura di non farci da sola lo custodisco nel cassetto e aspetto che qualcosa all'esterno mi aiuti a cambiare perché ho paura di uscire dalla zona di comfort ok picchiettando su questo credo che tu abbia picchiettato Maria Paola sulla paura di sbagliare di non farcela comunque ora paura di fidarmi dice Paola Scorcella ok paura di uscire dalla zona di comfort e io ok Lorenza dice è diminuita mi fa molto piacere allora dobbiamo andare sempre a vedere queste paure più da vicino di che cosa sono fatte perché altrimenti quando le guardiamo a distanza diventano sempre più grandi ma andiamo da vicino e stiliamo proprio i pensieri che vanno a costituire questa paura ok paura di che cosa va nello specifico riguardo chiaramente all'ambito di cui ti occupi ok paura di non so contattare quella persona di investire su questo di creare quest'altro vai nello specifico e a chi ti rimanda questa paura di solito questo l'abbiamo imparato nella nostra famiglia di origine a meno che non ci siano delle memorie più antiche ok e questo nelle mie sessioni lo posso vedere perché lavoro con la radioestesia e anche con i tarocchi e gli oracoli con le immagini archetipiche per guardare il linguaggio inconscio ok la mente più profonda allora facciamo la paura di Alice paura di non essere all'altezza mi ha venuto attenzione alla pancia anche io di uscire dalla zona di comfort sì questo è il passaggio successivo perché sciogliere le paure ci portano ci porta sciogliere le paure a fare il salto quindi ora facciamo un giro sulla paura di non essere all'altezza che aveva citato Katiuscia di non essere abbastanza di non essere all'altezza facciamo un giro su questo partiamo direttamente dalla corona perché siamo già sintonizzate ok ho paura di non essere all'altezza di realizzare il mio sogno e il mio progetto ho paura di non essere abbastanza di non avere tutte le competenze e i talenti a posto per fare questo ho paura di non essere abbastanza ho paura di non essere all'altezza ho paura di non essere capace ho paura di non essere capace a realizzare quel mio progetto quel mio sogno non mi fido delle mie potenzialità non mi fido del mio potere creativo non mi fido della mia intuizione non mi fido dei miei talenti non mi fido dei miei talenti non mi fido dei miei sogni non mi fido di quello che dico di volere non mi sento abbastanza per realizzare il mio sogno non mi sento di essere abbastanza di essere all'altezza ho paura di non essere all'altezza ho paura di non essere all'altezza ho paura di non essere abbastanza di non essere adeguata ho paura di non essere adeguata di non essere poi così capace come vorrei o come desidero non mi fido dei miei talenti ma mi apro alla possibilità che questo accada e mi apro alla possibilità di modificare l'immagine che io ho di me stessa respiro lascia andare senti com'è per te senti com'è per te allora poi adesso passiamo alla paura di fidarmi ok fatemi sapere come state prego Catiuscia Carolina mi dispiace che nessuno mi sostenga mi sproni sono sola con il mio progetto di vita ok ti capisco perfettamente Carolina a volte non siamo sole a caso che vuol dire magari c'è una fatica nostra un po' antica di assumerci delle responsabilità ok perché dobbiamo rafforzare il nostro maschile il maschile l'energia proattiva il dinamismo la solarità il programma la decisionalità ok la spada che va e traccia il percorso quindi forse il fatto che tu non sia sola non è un caso e magari uno dei successi prima di realizzare il tuo progetto uno dei tuoi successi è quello di farlo da sola pensaci a questo ok perché se alla fine non riesci ad associarti non trovi compagni di viaggio non trovi colleghi eccetera forse forse c'è un messaggio chiaro da parte del tuo inconscio profondo ok quindi vai a contattare il tuo maschile vai a vedere quello che veramente vuoi quanto ci credi in questo progetto da 0 a 10 cioè quanto lo senti nel cuore perché è da lì che arriva la spinta propulsiva è dal cuore che arriva è da lì che dobbiamo trarre energia per andare avanti perché è la mente che poi ci blocca mi stava venendo da piangere dice Alice ma non mi sono lasciata andare del tutto ok continua a picchiettare Alice adesso lo facciamo sulla paura di fidarmi della fiducia ok Carolina quindi vai a contattare il tuo maschile perché abbiamo in realtà tutta la forza e di più per realizzare ciò che desideriamo veramente ma che nasca dal cuore perché quella è la fonte principale perché se è solo ego se è perché lo faccio perché lo fanno tanti perché va di moda perché allora chiaro che lì non si deve realizzare quella cosa perché non mi servirà ma se invece quello che scelgo viene non da condizionamenti familiari ma dal mio sé più intimo e profondo ok e allora è autentico e reale ma sto leggendo tra l'altro un libro ho iniziato adesso psicocibernetica molto interessante questo è non è uno psicologo ma è un medico chirurgo estetico che ha iniziato a partire ha iniziato ad osservare come le persone cambiavano dopo la chirurgia plastica ok perché hanno cambiato l'immagine di sé e lui dice la psicocibernetica va a studiare il funzionamento il dinamismo che c'è dietro certe dinamiche che riguardano il cambiamento anche del comportamento umano e quindi parte dal concetto dell'immagine che tu hai di te tu realizzi nella tua vita in base all'immagine che tu hai di te se ti vedi come una sfigata se ti vedi come una perdente se ti vedi come una che deve stare chiusa in un angolo chiaro che non realizzerai niente ok potrai avere mille idee mille progetti creativi ma se è predominante dentro di te questa immagine non farai nulla quindi entra in contatto profondo con te stessa e vai a scovare nell'oscurità se ci sono quelle convinzioni che bloccano questi progetti ed ecco che qui interviene gli EFT perché andiamo a scioglierli in maniera mirata Katia è vero Elisabetta a volte proseguire da sole nel raggiungimento del proprio obiettivo è anche un grande stimolo sì Katia sì è proprio così Alice è vero viene dal mio sé che nel mondo della moda non ci siano solo un certo tipo di bellezza esatto poi il discorso di bellezza veramente è tutto un mondo a sé che ci si potrebbe fare un'altra serata allora andiamo a fare ora un giro sulla paura di fidarmi della fiducia la fiducia sia nel progetto la fiducia in me stessa la fiducia anche negli altri se magari devo chiedere delle consulenze o delle collaborazioni nel realizzare il mio progetto ok quindi ho paura di fidarmi ho paura di fidarmi ho paura di fidarmi negli altri ho paura nell'affidarmi e nel fidarmi degli altri non mi fido non mi fido neanche di me stessa non mi fido di quello che sento non mi fido di quello che dico di volere è che metto troppo in discussione me stessa di quello che sento metto troppo in discussione ciò che sento faccio fatica a lasciarmi andare al mio sentire faccio fatica ad ascoltare la voce del cuore che mi guida faccio fatica ad ascoltare la mia voce interiore faccio fatica a farmi portare dalla mia voce interiore non mi fido non mi fido negli altri non mi fido del mio progetto non mi fido che poi io possa veramente realizzarmi e riuscire in quello che sento non mi fido della mia parte più profonda non mi fido della mia voce interiore ok Antonella infatti ci conferma che mi risulta difficile chiedere collaborazione ok questo ha a che fare Antonella con l'apertura verso l'altro che è sempre l'apertura verso di te e quindi col fatto di meritare collaborazione meritare in questo caso sostegno magari nel tuo progetto ti serve un sostegno non devi stare da sola perché devi imparare la fiducia ho paura di fidarmi degli altri ho paura di chiedere collaborazione collaborazioni di creare delle partnership ok ho paura di chiedere collaborazioni di chiedere sostegno agli altri ho paura che mi freghino che non siano sinceri ho paura che non siano sinceri e onesti gli altri ho paura di rimanerci fregata e quindi faccio tutto da sola ma mi apro la possibilità di fidarmi delle mie sensazioni ricordiamoci sempre che gli altri sono uno specchio ok del nostro mondo interiore se non mi fido degli altri non mi fido di me stessa è come se tu non ti fidassi della tua capacità di discernimento ok non sono capace di discernere di distinguere il vero dal falso non mi fido della mia capacità di discernere ma mi apro la possibilità che questo possa accadere mi apro la possibilità di imparare a collaborare con gli altri mi apro la possibilità di aprirmi nelle collaborazioni con gli altri e di sperimentare me stessa nel confronto con l'altro è difficile per me chiedere collaborazioni è difficile per me affidarmi e fidarmi è difficile per me fidarmi e affidarmi ma mi apro la possibilità che questo possa accadere mi apro la possibilità di fidarmi maggiormente di me stessa chiude gli occhi ascolta il respiro che va in profondità senti l'aria che entra e che esce bevete acqua nella tecnica EFT è importante bere acqua come scorre l'energia come è ora questa paura della 0 a 10 di affidarmi di fidarmi che sensazioni fisiche ci sono fatemi sapere come è andato questo giro allora allora Carolina qui non ho capito scusami ti dispiace che nessuno ti sostenga o ti sproni però quindi non hai questo sostegno dei tuoi familiari io voglio far però poi dici voglio farlo da sola sento un po' di contraddizione ok cioè tu vuoi la conferma Carolina non vuoi il sostegno vuoi la benedizione vuoi la conferma che i tuoi ti dicano vai giusto ed è diverso maria paola grazie pronto questo mi ha veramente emozionata questo è il mio blocco più grande la paura di non saper discernere la mia voce interiore ha a che fare con il rapporto del nostro maschile e femminile quindi evidentemente Paola tu hai più forte la parte razionale logica il controllo il calcolo forse sei più brava nelle materie più scientifiche sai organizzare sai creare ordine e quindi ti manca da integrare potenziare il tuo yin interiore il tuo femminile che è un universo il nostro sentire è una guida ok e quindi l'abbandono totale alle nostre percezioni alle sensazioni quindi allenarsi è un allenamento quello di ascoltare la voce interiore e il nostro corpo è un alleato fantastico perché spesso soprattutto i cinestesici chi sente a pelle le cose ok gli arriva segnali importanti quando si incontra una persona quando si entra in un locale in una stanza ok e quindi e quindi dobbiamo ascoltare tutti i segnali oppure c'è che arrivano le immagini ad esempio chi è più visivo Maria Paola mi sento veramente meno bloccata allora Alice ti viene la frase che la tua famiglia non è proprio convinta al cento per cento non del tutto convinta di tutta questa cosa ok ma in questo progetto Alice hai bisogno hai bisogno del sostegno della tua famiglia è veramente così importante chiediti questo quanto è importante chi sta chiedendo questa conferma la tua bambina o il tuo essere donna allora Paola Scorcella che fatica meglio zappare dolore alla parte del fegato ok Paola può essere che ci sia un po' di rabbia accumulata Paola quindi vai a magari a stimolare il sistema pronunciando il sintomo che senti la sensazione che senti nella zona del fegato allora paura di non saper distinguere la voce interiore ok fatemi sapere come è stato come state ora allora adesso possiamo andare a focalizzarci sulla paura sì facciamolo sul femminile ok sul fatto di non affidarci abbastanza alle nostre sensazioni faccio fatica ad ascoltare le mie sensazioni faccio fatica ad affidarmi alle mie sensazioni alle mie intuizioni ho paura di affidarmi al mio femminile interiore faccio fatica a discernere il vero dal falso come se la mia capacità percettiva fosse offuscata faccio fatica a discernere il vero dal falso allora perché facciamo fatica a discernere il vero dal falso pur essendo una funzione connaturata una funzione che abbiamo già installata perché c'è il mentale che è troppo forte quindi ti stai confondendo su alcune idee che magari non sono neanche due su alcune convinzioni che tu hai appreso che devi imparare a lasciare andare ho paura di affidarmi alle mie intuizioni ho paura di affidarmi al mio sentire le prime impressioni come si dice sono quelle che contano perché la prima impressione che succede che non c'è il filtro della mente razionale che ragiona che calcola e quindi il primo impatto che tu hai di un progetto di una persona di un posto di un messaggio di qualsiasi cosa solitamente è quello veritiero quello corrispondente alla realtà insomma e dobbiamo imparare ad ascoltarlo Anna dice tristezza e stringersi allo stomaco mi soffoca Anna lascia libero questo pianto allora adesso bicchiettati su questa tristezza vai su questa tristezza perché c'è una morsa nello stomaco che non ti permette di liberare il pianto datti la possibilità di liberare questo pianto questa tristezza fai ok questa morsa allo stomaco paura di discernere paura di liberare le mie sensazioni di liberare le mie emozioni paura di ascoltare le mie emozioni di ascoltare le mie intuizioni mi sento separata mi sento separata mi sento divisa dentro mi sento divisa dentro faccio fatica ad ascoltare tutte le parti di me mi sento divisa questo mentale è troppo forte invadente è invalidante questo mentale è troppo forte ma mi apro la possibilità di metterlo da parte scelgo di dare spazio al mio sentire scelgo di dare spazio al mio sentire mi apro al respiro il respiro è quella funzione primaria fondamentale fondante che abbiamo per unire le parti maschile e femminile nero con il bianco la razionalità con l'intuizione il respiro stai nell'ascolto del tuo respiro le sensazioni fisiche e ammorbidisci i pensieri perché il respiro fa allentare tutti quei pensieri e la fiducia è un altro tema fondamentale perché mi devo aprire ai messaggi dello spirito del mio spirito quindi mettere da parte il mentale vuol dire aprirti fiduciosamente che ti arriveranno le informazioni di cui hai bisogno perché è vero funziona così lo spirito che sei risponde la mente più profonda risponde sempre non riusciamo ad ascoltarla perché abbiamo messo di mezzo i condizionamenti le convinzioni le credenze mi do la possibilità di mettere da parte il mio mentale e darmi il tempo di ascoltare com'è per me quel mio progetto quella realizzazione quel sogno mi apro la possibilità di ascoltare la mente più profonda senza giudizio chiudo gli occhi e lascio andare sento l'aria che entra e che esce senti come per te come stai adesso Anna come va questa tristezza e lo stomaco fammi sapere fatemi sapere Maria Paola Paola Scorcella sei riuscita a fare un altro giro come va il fegato fatemi sapere come va Marilena benvenuta vi informo che il 29 agosto sabato 29 terrò il corso di formazione online del primo livello EFT se volete maggiori informazioni mi potete scrivere privatamente ok con attestato di partecipazione tramite Skype Alice mi è uscito mal di schiena e il braccio sinistro ok mal di schiena può essere collegato a bisogno di sostegno picchietta sul tuo mal di schiena Alice allora Maria Paola dice io credo di essere abbastanza sensibile e capisco le vibrazioni ma ho paura di ascoltare e di fare ciò che sento sono testata più volte ho avuto tante esperienze di intuizioni ma non facendo ciò che sento non ho aiutato tante persone e si è rafforzato il mio blocco sì la paura ha preso il supervento ok ok sì Paola Scorcella continua a picchietta se è ancora più dolorante non mollare cara se riesci picchietta finché non si abbassa il livello di intensità del dolore ok non ti fermare adesso vai picchietta sul sintomo del fegato rabbia repressa Holly e Willow vai avanti con questi fiori di back Paola allora Maria Paola possiamo recuperare sempre il nostro sentire perché siamo noi cioè è la nostra natura quindi non si può e piano piano puoi andare a scandagliare queste paure a riconoscere quali sono non ti preoccupare sul fatto che non sei riuscita ad aiutare altre persone ma preoccupati sul fatto che tu non stai aiutando te stessa e quindi ad una ad una puoi fare l'elenco delle paure e farci l'EFT l'EFT Mary dice mi sento come senza energie un leggero un altitesta sì questa tecnica uno degli effetti che fa è spossante perché stiamo a smuovere tanta roba quindi dopo l'EFT si suggerisce sempre di riposarsi mi raccomando ci sta Mary quindi non ti preoccupare bevete Alice anche io ci lavorerò ora sono un po' stanca sì esatto con calma certo regolatevi adesso chiaro regolatevi però è questo Anna Sgarano dice formicolino nel corpo e le gambe che mi tremano è l'energia che si sta muovendo ok sì riposatevi ora ok Paola dice li sto prendendo da un anno questi fiori ok 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 allora forse c'è bisogno magari di altro di altri interventi però va bene grazie Alice per la tua partecipazione un bacio anche a te grazie no no se siete stanche riposatevi infatti la diretta dell'EFT dovrebbe essere dei 45 minuti massimo perché poi va a stancare va a stancare ok potete fare come lavoro personale quindi un piccolo quaderno dove segnate gli aspetti che grazie grazie a te Paola Scorcella a lunedì prossimo ah scrivetemi un attimo se volete che argomento volete trattare per lunedì prossimo datemi qualche suggerimento perché c'è un mare magnum pensateci un attimo attendo i vostri suggerimenti che cosa volete focalizzarvi su che cosa volete focalizzarvi e quindi vi stavo dicendo che potete fare un piccolo diario di dell'EFT ok paure da sciogliere ad esempio date un titolo ok temi da trattare e temi da trattare e quindi ad ogni tema vi ci soffermate il tempo necessario che può essere una settimana che può essere due settimane dove portate a zero quell'argomento finito quell'argomento passate al successivo questo è un lavoro che si può fare in modo personale allora Maria Paola dice anche io ho mal di testa forte formicoli ora bevo acqua sì sì ok Alice suggerisce sul lavoro sul denaro ok lo possiamo rifare sul denaro l'ho fatto la scorsa volta o due due fa però lo possiamo riprendere sul era sul meritare abbondanza non ricordo però lo possiamo fare nello specifico sì grazie Alice ok Lorenza mi piacerebbe trattare la gestione della rabbia gli attacchi di panico bene sì sulla rabbia infatti avevo pensato grazie Lorenza perché era già nel cantiere sulla rabbia perché c'era a spiegare un po' di cose sulla gestione della rabbia che è una delle emozioni impegnative molto impegnative e gli attacchi di panico gli attacchi di panico ti devo dire che faccio fatica a trattare le persone con gli attacchi di panico perché hanno fortissime resistenze sono quasi tutte fuggite dal percorso e nonostante abbiano magari iniziato a vedere dei miglioramenti però c'è una resistenza fortissima sugli attacchi di panico ok allora facciamo questo dai lunedì prossimo andrò a lavorare sulla lo facciamo sulla rabbia grazie Lorenza bene sì 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 io direi che siamo in chiusura perché mancano sette minuti e adesso non credo sia il caso di riaprire qualcosa un altro vaso perché vedo che siete già stanche e sì perfetto anche Rosanna è d'accordo lo facciamo sulla rabbia lunedì prossimo ottimo adesso segno e intanto vi auguro buona settimana buona serata fate provate anche da sole a picchiettare a sperimentarvi con questa tecnica anche se ripeto la cosa più difficile è trovare le parole adatte e centrare il problema questo avviene quando io sono maggiormente in contatto con il mio sentire e mi lascio portare in quel momento che sto facendo tapping mi lascio portare e faccio emergere da sé quello che è utile che emerga in quel momento quello che è concesso dalla mia anima perché non dobbiamo sapere tutto adesso non possiamo sapere tutto adesso passo dopo passo un pezzo alla volta ok grazie a te Lorenza Alice bene ha giudicato anche Katiuscia fantastico allora Paola Scorcella liberami dalla falsa corazza di durezza e mostrami il mio meraviglioso lato sensibile che è nascosto proprio per sfiducia Paola allora ha giudicato che lo facciamo sulla rabbia e quindi anche sulle nostre corazze perché la rabbia molte persone hanno un temperamento rabbioso un aspetto rabbioso sì esatto Paola perché la rabbia ci tutela ok ci crea questa corazza quindi molte persone appaiono un po' scontrose un po' come se fossero pronte appunto a combattere perché è una corazza è una corazza ma possiamo lasciare andare tutto possiamo liberarci veramente Katiuscia grazie per il tuo tempo per l'esperienza ok grazie a te Katiuscia bene di nuovo buona serata buona settimana e ci vediamo a lunedì prossimo un abbraccio grazie a tutti